Ciao a tutti, come sapete oggi è il giorno della memoria, in cui si ricordano le vittime della Shoah, del vortice di distruzione, come tradurrebbero loro, di quello sterminio, di quel genocidio. Però da qualche anno a questa parte noi abbiamo deciso di raccontare tutte quelle pagine della storia rimaste incollate nel libro dell'umanità, di tutti quei genocidi e quei campi di prigionia che nessuno mi ha raccontato. Saranno quattro storie che racconteremo, partendo dai Gulag e finendo a raccontare la storia di Tarek, un medico siriano, per far vedere che ci sono altri campi di prigionia anche oggi che nessuno racconta e che nessuno ha la voglia di affrontare. Per cui vi aspettiamo e speriamo di aprire una piccola breccia nel vostro cuore per far sì che questi campi di prigionia non siano dimenticati e che il giorno della memoria non sia solo dedicato alle popolazioni ebree che hanno patito la Shoah, ma tutti quelli che patiscono una prigionia o sono sotto una dittatura. Quindi vi aspettiamo. Grazie. 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 Grazie.